Parliamo un pochettino di PC da assemblare, in questo caso con un budget tra i 1300 e i 1400 euro che adesso andremo un pochettino a snocciolare e vi spiego esattamente che cosa vi voglia proporre. Di recente, nonostante ci siano stati degli incrementi di prezzo su alcune componenti cruciali come per esempio processori, case, alimentatori e schede video, effettivamente è arrivata la possibilità di creare delle configurazioni da 1300 euro che prima richiedevano un budget di circa 1500, combinando in maniera corretta e soprattutto, ovviamente, aggiornabile in futuro, le varie componenti, quindi andiamo a fare un pochettino quella che è la build ideale migliore per questo contesto. Ovviamente, come al solito, vi chiedo like, commento e iscrizione e fatemi sapere giù nei commenti di questo video quali alimentatori e case consigliate alle persone che vogliono fare questa build e ovviamente tutti i commenti sono sempre graditissimi. Partiamo dal blocco della scheda madre. Allora, ovviamente come generazione al momento io se scelgo ancora AM5. Vedremo poi un pochettino che cosa porta Arrow Lake, ma la prima ondata saranno soltanto processori di fascia superiore a quella che può entrare in questo tipo di build, quindi di per sé per adesso non scomodiamo Intel. Rimaniamo su AMD, con una B650, sapete che questo tipo di schede madri sono veramente delle mani dal cielo perché costano notevolmente di meno rispetto alle controparti X670 e soprattutto durante eventi come quelli che ancora mancano a quest'anno, Black Friday, Prime Day, tutto quello che verrà, effettivamente danno la possibilità di avere un'ottima piattaforma da cui partire e su quello che è tutto. La mia scelta in questo caso ricade su un modello abbastanza economico di Aorus, ma che rimane molto molto interessante, il modello Gaming X AX V2, che in questo caso supporta perfettamente, oltretutto è anche già aggiornata di BIOS per quanto riguarda gli X3D, però di per sé la cosa che ci interessa è che è una piattaforma che può allocare eventualmente appunto un 7800 X3D, o si spera il futuro erede se i consumi rimangono uguali, ed effettivamente questa cosa ci aiuta molto nel poter portare avanti la nostra piattaforma. Diciamo che per il gaming non vi servono le caratteristiche di una X670 o simili, quindi di per sé potete optare per una B650 e stare molto molto comodi e tranquilli. A questa abbiniamo un 7600, che è un processore che rimane sempre più economico della portocontroparte 7600 X, ma soprattutto riduce il TDP da 105 Watt a 65, cosa molto interessante perché ovviamente oltre a ridurre i consumi, quindi anche poi il peso su eventuali VRM di una scheda madre magari meno portata, come può essere una B650, che se comunque lo reggerà egregiamente, effettivamente permette di dissiparlo in maniera molto più silenziosa, anche con dissipatori più economici come quelli che andremo a utilizzare. 7600 in questo momento purtroppo è salito di prezzo, costa più o meno 200€ su Amazon, però effettivamente in questa zona è il processore secondo me con il qualità prezzo migliore. Certo, se scendesse di un 20-30€ per ritornare di intorno al suo prezzo ideale, 160-170€, sarebbe meglio. Però per adesso questa è la situazione. Se volete provare ad aspettare, sicuramente in futuro scenderà di nuovo. Si spera che il lancio di 9000 smetta di far avere questo incremento di prezzo ai 7000 per fargli protezionismo. Ad ogni modo, oltre a questo, ci dobbiamo abbinare delle RAM. Sapete che la scelta in questo caso, avete visto il video probabilmente sulle migliori RAM per Intel e AMD, le 6000 MHz rimangono attualmente lo sweet spot. Anche per i 9000 in realtà non ci sono grandi differenze prestazionali, ma soprattutto il costo di queste RAM è nettamente inferiore rispetto a quello delle 7200. In questo caso va un pochettino a gusti quello che ci vogliate mettere. Di recente ci sono delle RAM della Team Group di colore bianco, ma comunque molto minimal, che sono scese di prezzo in maniera consistente, portando dei modelli CL30, quindi ottimi timing, anche a prezzi contenuti. Intorno ai 110€, questa è una cosa molto positiva, permette di completare queste build in maniera egregia. Alternativamente potete optare per gli RGB, ma ricordatevi che il vostro budget salirà di un pochino. In questo caso io mi sto concentrando a spremere ogni centesimo prima di passare all'estetica. Poi ovviamente potete anche rifare la build in concetto di appunto migliorarla esteticamente, però di per sé io mi concentro sulle prestazioni oggi. SSD, in questo caso sapete che le scelte sono veramente tante, anche perché molti modelli o condividono le componenti o le cambiano nel tempo. Insomma, io un Tera di SSD NVMe, come al solito ve lo linko in descrizione, non ne sto a dire uno in particolare, ma per il gaming diciamo che non è che ci siano grandi pretese. Se volete proprio il meglio ricordatevi di prendere sempre un modello che includa la DRAM Cache per massimizzare quelli che possono essere lunghi trasferimenti, se eventualmente spostate i giochi da un PC precedente o cose del genere, se fate download prolungati o cose così. Però di per sé anche un SN750 di Western Digital può essere una soluzione assolutamente adeguata. Oltre a questo abbiamo chiaramente da metterci un dissipatore. Ci sono tantissime scelte, devo essere onesto. Il 7600 è un tipo di processore molto molto tranquillo. Personalmente io però spenderei un pochino di più per prendere un qualcosa che vada d'accordo poi con il 7800X3D. In questo caso non vi dico tanto. Se guardiamo i modelli di Thermalright troviamo diversi prodotti tra i 20 e i 40 euro. Soprattutto qui occupa una posizione in grande stile, secondo me, il Peerless Assassin Mini. Dissipatore di Thermalright veramente eccellente, ottime prestazioni e soprattutto di dimensioni contenute entra in qualsiasi case che vi possa venire in mente, spesso anche nei DTX. Se ci fate attenzione, in generale un prodotto interessante. Se no vi lascio giù in descrizione anche qualche opzione intorno ai 20 euro, sempre adeguata al 7600 e possibilmente con un occhio di riguardo verso un 7800X3D o processori con consumi simili. Chiuso il blocco della scheda madre, passiamo al case. Come in tutte le configurazioni, continuo a ripetere sempre le stesse parole. I case si sono alzati di prezzo tantissimo e sono difficili da reperire. Purtroppo anche i miei amatissimi Fantex XT Pro sono un po' spariti dal mercato. In questo momento diciamo l'unico con dei prezzi contenuti o relativamente buoni sarebbe l'XT Pro, cioè quello che include soltanto una ventola, non ha RGB, ma mantiene tutte le caratteristiche costruttive positive dei fratelli XT Pro Ultra e XT View, che oltretutto ho recensito su questo canale se volete andare a recuperare il video. In questo caso, a questo case, vi consiglio assolutamente di aggiungere almeno due o tre ventole frontali per massimizzare l'airflow, perché sennò creerete una bella scatola di calore. Ma se vi dovessi indirizzare, Thermalright vende pacchetti di ventole da tre pezzi intorno ai 15€, anche RGB. Alternativamente, se non ve ne frega niente degli RGB, Arctic P12 e vivete felici. Pacchetto da 5€ e potete veramente cambiare da così a così la situazione del vostro case e del suo rumore, soprattutto anche in termini di airflow. Nel caso del case, quello che tendo sempre a consigliare, ragazzi, è di trovare un modello che supporti nella parte superiore un radiatore da 360 mm, questo per la massima compatibilità, o quantomeno uno da 280. Le prestazioni sono più o meno simili tra queste due dimensioni di dissipatore. Questo lo faccio perché magari in futuro aumenterete la categoria di processore che andrete a utilizzare e quindi di per sé anche i consumi, oppure magari uscirà un processore particolarmente difficile da dissipare che richiede dei dissipatori un pochettino più prestanti. Insomma, gli XT Pro fanno questa cosa egregiamente. In alternativa, se non pensate che questo sia il vostro caso, se rimarrete sempre nell'intorno dei 65-80W di consumo, processore di fascia media, potete optare anche per opzioni come il Fractal Design Focus 2 Black, che per esempio in top vi permette di allocare un 240. In alternativa, sempre sulla linea dei 240 mm in top limitati, abbiamo il Endorfi Ventum 200, case che arriva con quattro ventole, costa 70€, 69,90€ per la precisione su Amazon ed effettivamente è un prezzo che permette di approcciare questa build in maniera egregia, riducendo anzi leggermente il budget sotto i 1700€, sotto i 1400€ in base a quella che vogliate prendere come scheda video. Quindi adesso avete diverse opzioni. Alimentatore, ragazzi, gli alimentatori, che situazione disperata in Italia. Cioè, è difficile trovare un buon alimentatore gold da 650W. Dico 650W sempre per lo stesso discorso dei dissipatori e dei case. Compatibilità a lungo termine. 650W ti permette di allocare schede video come per esempio anche una 4080 Super, se vuoi, e il tuo processore non ne consuma 300 dall'altra parte. Vero Ryzen 9000, vero Intel 14000, vero Intel 13000. Ok, la smetto. Comunque, il problema degli alimentatori è che costano tanto. Ci sono ancora un po' di modelli sul mercato che possano approcciare questa fascia di prezzo, ve li lascio giù in descrizione. Non li sto a citare perché magari poi uno finisce, l'altro magari ce ne sono pochi, uno sparisce e poi ritorna, quindi di per sé non ha senso. Vi metto giusto qualche modello. Voi nei commenti aiutatemi dicendomi qualche alimentatore di buona qualità, magari non per forza gold, anche bronze, che possa subentrare in questa build tranquillamente. Infine, ragazzi, arriviamo al discorso della scheda video. Diciamo che la situazione non è cambiata rispetto alla build da, appunto, 1500€ che ho fatto qualche tempo fa. Semplicemente adesso riusciamo a inserirla nel contesto dei 1300-1400€. Risparmiamo un pochino oppure andiamo a ottimizzare qualche altra parte. Ad ogni modo, per quanto riguarda la build da 1300€, vi propongo la 7800 XT, che è da video adeguata al contesto del 1440p, ovviamente non prestante come le controparti Nvidia nell'ambito del ray tracing, ma può sfruttare l'FSR comunque in termini di upscaling, paragonandosi comunque al DLSS. Cosa molto interessante. In alternativa, invece, potreste valutare di tornare indietro ancora di una generazione, soprattutto se non ve ne frega niente del ray tracing o della V1, e valutare magari appunto una 6800 XT o 6900 XT. Diciamo che ci entrano un pochettino più a fatica, specialmente se non guardate il mercato dell'usato o se comunque fincono le scorte su Amazon o su altri negozi. Più o meno qui il budget sarebbe di 550-570€ per riuscire a farlo entrare nei 1300-1310 al momento di questo video, cioè proprio quando sto registrando. Lo farò uscire prima possibile. Se no, se possiamo salire verso i 1400, ragazzi, le due scelte sono ovvie. Dal lato di AMD abbiamo la 7900GRE. Modello veramente molto interessante, sfonda il mercato, migliori prestazioni rispetto alla 7800 XT, soprattutto nel contesto del ray tracing. Non recupera il campo di una 4070 Super, però comunque si avvicina prestazionalmente in termini di raster, il che è veramente molto positivo. Consuma un pochettino di più, però onestamente è una scheda interessante. In questo periodo, che è un pochettino cattivello sui prezzi, la trovate sui 650 su Amazon. Allora, se devo essere onesto, è un po' tanto, nel senso che dovrebbe stare verso i 600-620. Quindi valutate di aspettare prima di comprarla, che riscenda ai suoi prezzi ideali. E il discorso vale anche per la 4070 Super. Scheda veramente interessante, consumi veramente eccellenti, la raffreddate soffiandoci fondamentalmente, ogni tanto vi girate dal vostro case e fate così e veramente togliete tutto il calore che ha dentro. Tutto bellissimo, però anche qui c'è il problema del prezzo. 650€. Mannaggia, cioè è tanto. Però rientra nel budget dei 1400, quindi di per sé è comunque un miglioramento rispetto alle build a 1500€, fate qualche tempo fa. Ad ogni modo, ragazzi, queste erano le mie proposte per quanto riguarda una build da 1300-1400€ per il 1440p. In base al gioco, oscillante tra i 60fps e i 144. Ma se usate l'upscaling o comunque rimodulate le giuste impostazioni senza rovinarvi l'esperienza, assolutamente più verso i 144. Quindi potete poi anche abbinarci qualche monitor che vi lascio giù in descrizione. Detto questo, per questo video è tutto, fatemi sapere le vostre opinioni giù nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. E' stato su More Than Tech. Sanosa!